Un caro saluto a tutti in questo sabato che ci traghetta dentro la solennità della Santissima Trinità che celebreremo domani. Oggi ci mettiamo ancora in ascolto del Vangelo di Marco che ci sta accompagnando in questi giorni del tempo ordinario. Leggiamo subito il testo di oggi, abbastanza breve. Siamo nel capitolo 10 del Vangelo di Marco. Dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. È un testo molto molto breve, però se mi permettete questa osservazione preliminare, si presta tanti fraintendimenti, nel senso che noi dobbiamo collocare questo testo due millenni fa. Noi dopo Maria Montessori, dopo le scuole nuove del Novecento, abbiamo una certa idea di bambino, quindi non lo so, immagino che quando pensiamo al bambino ci viene in mente la gioia, l'allegria, la giocosità, la tenerezza anche. Cioè lo associamo immediatamente a qualcosa di positivo e ci mancherebbe, questo era anche ai tempi di Gesù. Però teniamo presente che non c'era questa cultura dell'infanzia. Il bambino era abbastanza considerato un piccolo uomo e tenete presente che dal punto di vista giuridico il bambino era in tutto sottoposto al padre di famiglia. Il bambino non era immediatamente pensato come l'emblema della tenerezza, della giocosità, della gioia di vivere. Il bambino immediatamente era quello che non contava nulla. Ecco, questo sostanzialmente dobbiamo dirci. Poi certo che i bambini venivano aiutati, rispettati, ci mancherebbe, c'è anche tutto questo, lo diremo tra un attimo. Però al tempo di Gesù probabilmente, gli apostoli, perché non vogliono i bambini? Perché Gesù deve stare con la gente che conta, non con i bambini. Se non stiamo a perdere tempo con chi non conta, e va bene, poi farà una carezza, farà una benedizione, però serve la gente che conta. Ecco, mi sembra questa non la dinamica che sottolineerei del Vangelo che ascoltiamo oggi. Gli apostoli sono infastiditi perché gli sembra di perdere tempo. Su dai, andiamo dove le cose contano. Adesso mica ci metteremo a prendere in braccio e ad accarezzare i bambini. Abbiamo cose più importanti da fare. Potrebbe venire, no, nella nostra vita di fede che... Eh, la fede comunque chiede di stare tra la gente che conta, nelle attività che conta. Non perdiamo tempo. Su, arriviamo al risultato. Questa non mi sembra la sottile tentazione che gli apostoli stanno attraversando. Abbiamo cose più importanti da fare che star lì con i bambini. Immagino, no, sto un po' giocando di fantasia, però, così un po' per i commenti che ho letto, non mi sembra fuori luogo questa lettura, no, dove l'obiezione di fondo è proprio che sembra che Gesù stia perdendo tempo. A volte mi domando, ma come credenti e come chiesa non è che stiamo perdendo troppo poco tempo? Nel senso, certo che sono importanti tutti i nostri piani pastorali, le nostre riunioni, le nostre competenze, però se io penso per me, nella mia vita, i credenti più preziosi, le persone che mi hanno testimoniato la fede e mi hanno cambiato, mi hanno trasformato, sono quelli che hanno avuto il coraggio di perdere tempo con me. Sono quelli che hanno avuto il coraggio di fermarsi, di stare con me, anche quando non contavo, anche quando gli facevo perdere tempo, anche quando ero solo un singolo che aveva bisogno di aiuto e non è che fa risultato, non è che ti fa fare successo. E a volte con tutti i nostri piani, le nostre mega organizzazioni, va a finire che non abbiamo tempo da perdere. E ma è il tempo che perdiamo che ci fa vedere se davvero noi amiamo. Gesù non ha paura di perdere tempo, lo fa con i bambini, non ha paura di stare con loro e di fare gesti di gratuità, di regalare tenerezza senza senso. Mi è uscita bene questa di frase. Regalare tenerezza e misericordia senza senso, senza bisogno di fare subito risultato, senza bisogno di fare cassa, senza una grande programmazione pastorale. Gesù regala gentilezza senza senso, parole buone senza che gli torni indietro nessuno. Perde tempo senza per forza che questo faccia successo. Sta lì anche se questo sembra che poi immediatamente non cambia il mondo. Eppure è questo che ci cambia, eppure è questo che ci cambia. Sono le carezze che ci cambiano, non immediatamente i piani pastorali. Sono il fatto che uno sta lì con te che ti cambia. Non immediatamente tutti i nostri programmi, che pure servono e ci mancherebbe. Non sto facendo una critica alle nostre attività pastorali, ma quando pensiamo che non abbiamo più tempo per stare con le persone, per metterci in atteggiamento di ascolto, per spandere gentilezza, per spandere tenerezza, per testimoniare concreta misericordia, per spandere gentilezza senza senso. E questo diventa un grosso problema. Non siamo più credibili. Come facciamo a testimoniare l'amore? Ma quello che ci interessa è solo l'efficienza. E Gesù è colui che ha il coraggio di perdere tempo con noi. Guardate che se domani nessuno parlasse più di Dio su questa terra, forse ci vogliono mesi prima che qualcuno se ne accorga. Siamo davvero una stretta minoranza noi credenti. Eppure testimoniamo di una gratuità di Dio che ci cambia la vita. Non siamo efficienti. Sì, in Italia se la chiesa domani scomparisse, tanti se ne accorgono perché abbiamo tante strutture. Ma ciò che cambia è il fatto che abbiamo avuto un incontro gratuito con Dio, che Dio ha avuto il coraggio di perdere tempo con me e io lo faccio con te. È questo che mi cambia. È questo che è la buona notizia che tiene in piedi la nostra vita. Poi mi permetto una seconda osservazione. A chi è come loro appartiene il regno di Dio? Allora, se immediatamente l'esperienza degli apostoli e quella del bambino come ci fa perdere tempo non è uno che conta, è molto interessante anche questa espressione del Vangelo perché certo Gesù non esclude tutte quelle virtù naturali del bambino. Il bambino è colui che non è autosufficiente, che ha bisogno di un padre e di una madre per vivere. Il bambino è schietto. Il bambino non lo giri tanto attorno. Non hanno peli sulla lingua i bambini, ti dicono le cose come stanno. Il bambino non ha mica paura di chiedere, di domandare tenerezza. Il bambino non ha paura di star lì e di giocare la vita senza per forza misurarla in caratteristiche di efficienza. Il bambino è colui che non ha vergogna di manifestare che l'affetto è importante, che un legame gli serve, che ciò che mi tiene in piedi è il fatto di sapermi ben voluto e accolto. Ecco, questi atteggiamenti non sono molto interessanti dell'infanzia a chi è come loro è il regno di Dio. Provo a dirlo in un linguaggio un po' sintetico. Il regno di Dio, dov'è il padre colui che ci accompagna, è colui che è il cuore del regno di Dio, è perché è disposto a essere figlio, è perché è disposto a essere figlio. È difficile diventare figlie. Noi nasciamo, nasciamo tra virgolette figli, ma poi ci vuole una vita per diventare figli, cioè per riconoscere che ho un padre che mi ha dato la vita, che la paternità è cosa buona. Ecco, il bambino è colui che ha il coraggio di essere figlio e noi dovremmo tornare da adulti con la gioia di essere figli, di riconoscerci figli del padre. E ci vuole tanto, ci vuole veramente tanto avere il coraggio di essere figlio. Forse è questo quello che possiamo imparare come atteggiamento spirituale dall'infanzia, avere il coraggio di essere figli. Grazie per aver seguito questo momento di meditazione, vi auguro davvero una giornata dove possiate perdere tempo con qualcuno e che abbiate la fortuna di trovare qualcuno che vuole perdere tempo con voi e che possiate scoprirvi figli. Sono davvero i due regali e i due auguri che raccogliamo dal Vangelo di oggi. Buon sabato a tutti!